Pacifici, a parte la sconfitta, poi arriveremo anche a parlare della prestazione in generale, ma io comincerei da una statistica abbastanza impietosa. Quattro calci di rigore sbagliati in una stagione sono un po' tanti. Eh sì, purtroppo è un po' la sfortuna, un po' forse, non so, in preparazione nel batterli, ma purtroppo ci stanno questi episodi. Parlando invece della prestazione, nel primo tempo siete stati, non dico straripanti perché non è il termine giusto, però avete creato tanto, a parte il calcio di rigore. Nel secondo tempo avete tirato una volta sola in porta con Forte, poi che è successo? Secondo me siamo forse calati un po' fisicamente, ma abbiamo un po' smesso di giocare palla a terra e abbiamo cominciato un po' a fare lancioni, quindi secondo me c'è stato forse un po' di calo fisico e psicologico. Però è stato un 2023, almeno fino adesso, super hyper positivo, perché avete perso soltanto tre volte, due volte in casa contro l'RTS Queens e oggi. Questa squadra può rialzarsi facilmente, molto più facilmente rispetto a quelle altre due sconfitte che ci sono state? Sono convinto di sì e anzi stiamo lavorando proprio per arrivare in posizioni migliori. Grazie Pacifici, a presto. A riusci.